Se vi può dare fastidio all'overlay di Discord, ovviamente possiamo disattivarlo senza problemi sulle impostazioni utente nel nostro profilo. Ovviamente vai sulla rotella, impostazioni utente, scende fino a giù fino a trovare l'overlay di gioco, attiva l'overlay in gioco. Ovviamente quando stai giocando ti escono messaggi, oppure ti esce un suono, una notifica o qualsiasi cosa e ti può dare fastidio. Tu basta che la disattivi e basta. Dimensione dell'avatar, grande, piccola, però ovviamente non ti serve. Notifiche dell'overlay, ti esce in alto a sinistra, ma ovviamente l'abbiamo disattivato, quindi in questo caso non dobbiamo più preoccuparci delle notifiche che ci escono nel gioco. Quindi per quelli che gli danno fastidio così le notifiche oppure l'overlay in gioco, questo era il metodo per disattivare l'overlay su Discord. Quindi in questo piccolo tutorial, se vi è stato utilissimo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!